Ciao e bentornati al nostro brillante canale Annalisa Superstar E io, che sono Annalisa Superstar Ho avuto la brillante idea Di fare partire la lavastoviglie Ora, quando devo girare il video Proprio mi piaceva ciò che ho pensato Faccio partire la lavastoviglie e faccio il video Così ammortizzo coi tempi Brava Orbene, di tanto in tanto io do una chance ad Essence Per quanto io non sia mai stata Una fan accanita di Essence Anni e anni e anni fa Tu considera che Il periodo in cui portarono Essence A Palermo Coincise più o meno con l'apertura del mio canale Quindi anni e anni e anni fa Io acquistai, presa alla foca Diverse cosette, perché hanno prezzi Veramente appetibili, favolosi Sin da subito io ho cominciato a fare la smorfia Però io ho capito Che cercando bene, essendo selettivi Nella condola Essence Delle chicche si trovano Ti faccio vedere cosa ho comprato Uno in particolare mi è stato consigliato da tantissime ragazze Tra i commenti Guarda parto proprio da lui E te lo faccio vedere Ho preso questo qua Che è Color Intensifying Eyeshadow Base Allora io l'ho utilizzato due volte Oggi è la seconda volta Ti farò sapere Ieri non mi hai entusiasmato più di tanto Però ieri è stata già da particolare Quindi io faccio finta Facciamo finta che non l'abbiamo mai utilizzato L'utilizzo un altro poco E ne parliamo Non ho visto tutto questo grande Intenso colore Se devo dire il vero Però mi prendo un altro po' di tempo Ma lo sai perché ti dico Mi devo prendere un altro po' di tempo Perché devo imparare a modularlo Perché secondo me ho esagerato E quindi poi ho dovuto rimuovere prodotto Quindi imparo a modularlo E ne riparliamo Perché ho visto che non si assorbe immediatamente Quindi poi ne riparliamo Quante volte l'ho detto Poi ne riparliamo In ogni caso L'ho preso perché È leggermente coprente Ma leggermente Non copre tutta la palpebra Come può essere il Painterly O il Soft Ochre di MAC Volevo qualcosa che rendesse La palpebra uniforme nel colore Siccome tante, 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 tante Mi dicevano Guarda che è fantastico Guarda che io mi ci trovo bene In piedi scorrendo L'ho voluto provare Io utilizzo come primer ormai Praticamente non hanno un primer di MAC Che è trasparente Però poi lo intensifica anche i colori Devo dire pure questo Però ho detto Diamo io una possibilità Vediamo Detto questo Io ho Praticamente conservato lo scontrino Una cosa straordinaria Perché c'è scritto Essence 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 Con i codici E non con i nomi dei prodotti Quindi adesso io dovrei guardare il codice E come si guarda il codice? Cioè da dove lo capisco? Aspetta 5,1,3 Vediamo se è così No, 5,1,3 Questo è costato 1,89 euro Non mi sbilancio Anche questo Voglio provarlo ancora Non mi voglio sbilanciare Ma prima o poi grillerò Al miracolo no Al miracolo no Però non mi sbilancio Meglio così per adesso Perché sai Io i prodotti li voglio provare Sempre per un bel po' Perché certe volte All'inizio mi fanno fare la smurf E poi con il tempo Poi dico wow Oppure il contrario All'inizio dico wow E poi con il tempo Trovo delle pecche Non mi sbilancio Mi limito a mostrare Mi limito a mostrare Cosa ho comprato Perché presa dalla fresia L'ho voluto provare Immediatamente Devi sapere Che io sono una fan Dei primer Per mascara Una grandissima fan Perché se io Io prima non le mettevo Le ciglia finte Da quando ho cominciato A mettere le ciglia finte Io Mi piacciono Sinceramente Però diciamo Che ci sono giorni Che proprio no Non c'è motivo A mettere le ciglia finte Quindi vado cercando Sempre qualche cosa Invidia con l'effetto Bababa boom Allora Guardando un po' Nella sezione mascara Ho visto che c'era Questo prodotto Che è un primer Volume booster Lash primer Super volume With super fruits Tanto che Nel piripullo Qua nel tappeto Ci sono Dei disegnini C'è With a kai oil And mango butter Effettivamente Quando torno a casa E lo apro Fa profumissimo Tanto che io Credo che Tanti anni fa Avevo una crema Corpo Che faceva Questo profumo Lasciando stare Il profumo Che poi Nelle ciglia Però non si sente Obiettivamente L'ho comprato Con delle aspettative Perché Obiettivamente I mascara Essence Non deludono Questo lo devo dire Tanto che sono stata Un po' tentata A se prendere Un mascara In particolare Ma l'ho lasciato stare Ho detto Finisco quel che ho A casa E intanto Provo questo qua Questo è quel mascara Bianco Che si stende Sulle ciglia Prima di stendere Il mascara normale Teoricamente Aumenta il volume Ora Siccome io sto provando Un paio di prodotti Onde evitare Di mettere Le ciglia finte Un paio di prodotti Che servono proprio Per avere Le ciglia Bla 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 Senza ciglia finte Aspettate Aspettate un bel video In cui io parlo Di tutto questo Tra cui Questo prodotto Perché Sinora Non si sta comportando male Però Parliamone Ma anche questo Parliamone Tra un po' Se questo Così intitolerà Questo video Parliamone Tra un po' Bene Parliamo Di pennelli I pennelli essence Alcuni sono A dir poco Inutili Scusa se lo dico Ma alcuni Sono veramente Inutili Altri sono Belli duri Quasi Inutilizzabili Tu considera Che c'è un pennello Di cui mi piaceva Tantissimo la forma Che lo utilizzo Io ogni tanto Per stendere la crema Giusto Perché io l'ho comprato Cioè io la crema Me la metto con le mani Sinceramente Però questo L'ho comprato Ma io non ho detto Quanto è costato questo Aspetta Torna indietro Vediamo il codice 670 Un attimo 670 3,59 euro Torniamo ai pennelli Non mi fanno impazzire In linea generale Però Delle chicche Io le ho trovate Dei pennelli essence Che io continuo ad utilizzare Il punto è questo Costano poco E io ogni tanto Quando li vedo E vedo che c'è la condola Già ben fornita Prendo qualcosa Anche perché hanno Dei prezzi Veramente bassissimi Ora nella collezione Stagionale Si chiama Fallback to nature Ti faccio vedere Questa è la confezione Origina del pennello Ho preso questo pennello Che in questo momento È bagnato Perché l'ho utilizzato Ero molto curiosa Di provarlo Per cui L'ho rilavato Perché i pennelli Prima di usarli Li lavo sempre Parliamone tra un po' Non è male Per niente Per niente Certo Questo cosetto In plastichina Va bene Però le setole Ti dicono Non sono male Te lo faccio vedere Di profilo Cioè praticamente Prendi il viso così Fai un leggero Contouring Se devo dire il vero Io l'ho utilizzato Per la prima volta Con Con la mineralize Skin finish Di MAC Che ha un finish Decisamente Molto naturale Ed è pure Impalpabile E molto leggero Come prodotto Poi l'ho utilizzata Con la terra Di Becca Che si chiama Ipanema Sun Che è Più scura Decisamente più scura Ha una scrivenza Decisamente diversa E devo dire Che sono riuscita A modulare Molto bene Anche la terra Becca Che ha una fortissima scrivenza Quindi Lui zitto zitto Sinora Ha fatto il suo mestiere Poi te lo faccio vedere In opera All'opera Sia con la mineralize Skin finish Che è molto impalpabile Che con Anche un prodotto Della NYX Che è di fascia low cost Che si avvicina Diciamo È al centro Tra La mineralize Skin finish Di MAC E Ipanema Sun Di Becca Questo prodotto NYX Si trova al centro Come scrivenza E come prestazione Secondo me Poi te lo faccio vedere All'opera E ti faccio vedere Che riesce a modulare Sinora ha modulato bene il colore L'ho lavato per farlo vedere Ma non si è ancora asciugato Il prezzo di questo Meno male Che ho conservato Almeno le confezioni Ci No Sì Vedi Ci sono numeri Io mi confondo 656 656 656 Ah questo caro È costato 3,79 euro Allora Questo in particolare L'utilità Aspetta un attimo Vedo se riesco A ribeccare Pennello angolato Ok È questo qui Pennello angolato Per ombretto Anche questo pennello È bagnato Perché l'ho lavato Per farlo vedere In video Ma non si sono asciugati In 12 ore Ma va bene Allora Non va bene Per i colori matte No Diciamo che la prima volta Che l'ho utilizzato L'ho utilizzato In combinazione Con questo Il colore matte Non lo prende bene Devo dire Devo dire tutto Perché mi sono rimasti Dei bei buchi Nel colore Quindi poi Ho dovuto utilizzare Un altro pennello Però Questa forma E questa sottigliezza Mi aiutano a fare Tantissimo L'angolo E io lì Sono rimasta Veramente stupita E colpita Considerato pure Che è costato Niente Quindi Per quanto riguarda I colori matte Io ho i miei dubbi Che dirò Wow Va bene per tutto Lo provo ovviamente Un altro pochettino E ne riparliamo Ne riparliamo tra un po' Pensa Ancora Te l'hai richiesto Se ne avremmo riparlato Tra un po' Lo so Comunque Il punto è il seguente Vediamo come si comporta Con altri colori O come si ricomporta Con i colori matte Perché Per fare la piega Dell'occhio L'angolo esterno Ti dico Che io A primo gesto Ho detto Hai capito Su pennello Bravo Bravo Allora Aspetta che ti dico Il prezzo di questo Questo è il codice 120 101 euro Per lo stesso principio Identico Spiccicato Proprio Ho comprato Perché mi incuriosima Molto la forma Ho preso Questo che si chiama Pennello obliquo Per labbra Che io In realtà Visto che le setole Sono identiche Almeno al tocco Sembrano proprio Identiche Ai pennelli Ai pennelli Però Lo utilizzerò Per gli occhi E non per le labbra Perché intanto Per le labbra Io ho un pennello Di Real Techniques Con cui mi trovo Una meraviglia Non intendo assolutamente cambiare E comunque In ogni caso Lo uso molto raramente Il pennello per labbra Se devo dirtela tutta Ma non l'ho comprato Per le labbra L'ho comprato Per gli occhi Sempre per L'angolo esterno O per L'attaccatura Alle ciglia Non l'ho ancora utilizzato L'ho lavato E si è asciugato Perché questo L'ho lavato Quando l'ho comprato Giustamente già È bello che è asciutto Però non l'ho ancora Utilizzato Perché non è avuto L'occasione E questo L'ho pagato Dico 130 130 1 euro e 69 L'ultimo pennello Che ti mostro È l'ennesimo Di questa forma Che io compro Perché Mi ci trovo bene Quindi Li prendo spesso Sai perché Allora Io Spesso e volentieri L'abitudine Di lavare i pennelli Continuamente Nel senso che Lo uso Lo sciacquo subito E li ho sempre puliti Però ci sono volte In cui la mattina Non è che io Ho tutto questo tempo Per cui mi trucco veloce Rimetto lì E arrivederci Grazie Mi piace avere dei pennelli puliti Sempre a portata di mano Questi sono di quei pennelli Con quel prezzo Favoloso Che tutto sommato Fanno il loro Nel senso che tutto sommato Che fanno il loro lavoro Questo qui è uno di quelli Ti dico qual è il codice Ora io ho Mischiato Un minuto Vediamo se è lui 120 Codice 120 Codice 1,89 Che è questo pennello Semplicissimo Cioè Senza informe Senza l'ode Che però sono Di quei pennelli Che tutti quanti abbiamo A sto prezzo Favoloso E a sto prezzo Mi piace Da morire E lo uso Questo per esempio Con gli ombretti opachi Va sereno Va molto molto tranquillo Non lascia buchi E scivola pure abbastanza bene Mi piace perché ha la punta pure abbastanza rigida Io non so come mostrare la punta abbastanza rigida Aspetta un minuto Ma che sto facendo? Eh la punta rigida Aspetta Ok grazie fotocamera Mi ha aiutato Allora questo è il pennello visto dall'alto E questo è di piatto Come lo faccio vedere? Che mi sembra? La punta è rotonda E abbastanza rigida Punto Sulla fiducia E questo è il mio All Essence Di prodotti Che Parliamone dopo Parliamone troppo Ecco Comunque questo pennello qui Questo Non è niente Male Niente Ma anche altre cose Ti devo dire ragazzi Sto in giro Mi sa che Quando le parliamo dopo Le parliamo bene Ecco Spero che il mio video ti sia piaciuto Per favore Non dimenticare A lasciare un pollice in su E soprattutto Iscriviti al mio canale Così non ti perdi Gli altri sfavillanti video Eh guarda Che perdita Che perdita Se non ti iscrivi Iscriviti Iscriviti al canale Ah mi hanno detto pure Che devo dire Attiva la campanella Però intanto Per se per me Iscriviti Poi se ti va Attivo pure la campanella Però intanto Iscriviti Ciao 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 Ciao